il nostro tommy ha preso la medicina perché lui è diciamo assistito psichiatricamente me ne sono appena accorto mi aspetta un po di salame norvegese tavoli salami, giusto, è buono, guardiamo noi lo manniamo proprio un salame, un salame quando c'hai fame mangiati due fette di salame e se c'è il pane dopo glielo darai anche al cane, capito? ciao Italia, ciao Italia, ha vergogna l'amico mio non gli piace la videocamera, ha provato il suicidio come me ma niente la vita non è bella per tutti però bisogna anche riprendersela in mano abbiamo tutti i momenti di alti e bassi però tempo al tempo che le cose si aggistano amici miei un saluto